E' impossibile. Blu ha avuto un piccolo. E' impossibile. Ciao, bellezza. Sei uguale a tua madre. Ti prometto che la trovo e te la riporto. E' stato scatenato un potere genetico. Abbiamo commesso uno sbaglio terribile. L'ora dell'Apocalisse potrebbe essere passata. Se vogliamo che il mondo sopravviva, conta quello che faremo adesso. Serve la sua perizia. Vieni o no? Un piccolo di Raptor. Ho promesso di riportargiela. Hai fatto una promessa a un dinosauro. Sì. Perché? Leggetemi forte fra di voi. Questo non va bene. Dai. Che cos'è? Il più grande carnivoro mai visto al mondo. Correte! No, 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 no! Visto? Tutto bene. Visto? Visto!